Sì no 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 qualcuno ha un piano per sconfiggere questa maledetta strega no potremmo farne rapire uno cosa farne rapine uno cosa puoi far rapire uno di noi alla strega si perchè non ho capito il senso perchè dobbiamo farci rapire e poi chi è che vede rapido io no grazie Ho un'idea, facciamo rapire Aurora Posso farti rapire dalla strega? Cosa? Ma non hai paura? Eh, vabbè, almeno salvo voi E' marino Abbiamo pure i dolci Sinceramente io non avevo l'obbligo ad essere rubata Abbiamo un sacrificio umano Senti, lei l'ha rubata Poi noi seguiamo la strega Ce la riprendiamo e le ce le ha le dolcette Ma i dolcetti dobbiamo ancora prendere Hai ragione, allora facciamo una cosa Sono più importanti i dolcetti di Noemi Per i dolcetti Allora, chi vota per Noemi per essere rapita? Io, io voto, io voto Certo, ma che mi importa di me? Noemi sarà la nostra esca Allora, tu andrai vicino la porta della strega Che è quella laggiù in fondo nera Che ci sta sbirciando Verrai rapita E dopodichè che facciamo? Noi siamo noi per i dolcetti Scambiamo Noemi Per i dolcetti È vero, se noi diamo Noemi In cambio di dolcetti La strega ci dà i dolcetti Ma poi come facciamo a prendere Ok, quindi gli diamo Noemi E poi ce la riprendiamo Può parlare Vitto? Grazie Noi portiamo Noemi via la strega La strega ci dà i dolcetti In cambio di Noemi Dopodichè poi Picchiamo la strega E ci prendiamo Noemi No, no Ma con cosa facciamo? No Lo facciamo No, per prendere i dolcetti Possiamo fare che praticamente Oddio mi sono scordata Facciamo rapire Noemi Noemi No, non la picchiamo Sì perché poi Forse la soluzione è essere gentile Riavremo i dolcetti No E la Oh, ho un'idea Diamo i pop it alla strega E le cidei dolci Sì È fatto Vediamo Tanto sicuramente Noemi Non verrà rapita Strega Mi raccomando strega Non rapire Noemi Non rapirmi Non rapirci Ok, quella è la porta della strega Quella è la porta della strega Noemi vai avanti con i pop it Noemi dai i pop it Ok, dai i pop it Ok, aspetta Bussa, bussa Che c'è? È permesso? Strega, se noi ti diamo i pop it Tu ci dai i dolci? Ti dai tutti questi E tu ci dai i dolci? Attenta Noemi Attenta Ce li dai i dolci? Oh Oh, non li vuole Non vuole i pop it Non vuole i pop it Cosa vuole? Non vuole i pop it Noemi Nooo Nooo Noemi Nooo 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 Sei mazza Aurora La strega Facciamo finta di essere i suoi amici Vai 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 Rita la strega e fatti ritare Noemi Noemi Ritaci Noemi Perché no? Non ci vuole ritare Noemi Dice che devi andare tu Dice che devi andare tu Aurora Nooo Dice che ti rità Noemi solo se vai tu Nooo Come no? Aurora la devi saldare Va Giulia No vado io Vai tu? Ma io ho paura di andare con la strega Vai Aurora la salva Doemi Va bene Nooo Nooo Ma Doemi dov'è? Dov'è Doemi? Ma ragazze No Aspetta No Roiii Roiiii Roiii Roi Roi Roia Roi Roat Tra Mi fairly Roi Roat Ro hat Vittorio no Che cosa vuoi? Vuole i miei calzini Aspetta tieni Tieni il mio calzino È venuta Sì Via Non mi toccare Allora Vieni Ragazzi in camera In camera Venite in camera In camera Venite 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 Chi c'è qua fuori? Oh fateli entrare È qualcosa? Nessuna No? Sei sicura? Vorremmo scappare? Forse è l'unico Ragazzi che piano avete Io provongo di chiudere la stanza E dormire qui E vivere qui Per il resto della nostra vita Ma sei pazza? Ma sei pazza? Questa è la mia cameretta Io ho molta sentita Non c'è la chiave Non c'è la chiave? Non c'è la chiave Ragazzi sentite scappiamo Perché io devo bere Ma Noemi tu sei qui Dove sono i dolcetti? Non mi vuoi mai essere qui tu Perché è scappata quando lo strega ha aperto la porta? Sono uscito a scappare Però devo dirvi una cosa Che ho visto all'interno della stanza E cosa c'è? Ci sono i dolcetti? Sì E c'erano tutti i dolcetti Tantissimi i dolcetti Ma dove? I dolcetti di ogni immaginazione Di tutti i tipi Di tutti i gusti Di tutte le colorazioni Ragazzi siamo aiutati Ora Viamo avere coraggio Ok Allora Avremo la porta Apriamo la porta E prendiamo i dolci Allora il piano Sentite ascoltate Ascoltate Venite qua Venite qua Venite Che c'è? Che c'è? Già io non ho messo la chiave fuori È come se non si abbassassi Non c'è niente Oh sta qua fuori la strega Soca Se non ci dai dolci Noi Non faremo mai niente Per te Apriamo Sei solo crudele Oh Non ho vista Sei più crudele Di qualsiasi altra cosa Ma è bella la strega Ma c'è una lampada Ok Ah grande noi Mi modulo ti adoro Venite qua Vi devo dire una cosa No Lei apre Venite qui Vi devo dire una cosa Vi dico quello che dobbiamo fare Per sconfiggere la strega Noi Dobbiamo andare Tutti quanti Insieme Dentro il suo nascondiglio Adesso noi entriamo Nella stanza della strega Ci prendiamo tutti quanti I suoi dolcetti Ma Vitto come facciamo Quella è la stanza segreta Sarà piena di altri mostri Vitto Non fa niente Noi andiamo Andiamo lì Andiamo lì Diciamo strega Noi vogliamo i dolcetti E lei ci li deve dare Per forza Perché noi siamo in cinque Sì Siamo in cinque E lei è una Vittorio è la matematica Esatto Noi siamo in cinque E la strega è una Cinque contro uno Ma lei è magica E forte E se ci fossero altri mostri Saremo cinque contro cento Vitto E se tu E se tu La distrai Mentre noi prendiamo i dolcetti La distrago io Auro Fai finta che è tua amica Ma prima lei mi voleva prendere Mi tirava così Sei bellissimo Voglio essere mia amica Andate in salotto e tutto Mentre noi Rubiamo i dolcetti Noe aiuti Ma Aurora non ce la farà Contro la strega da sola E faccia andare Noemi con lei Sì Noi Va bene Noemi e Aurora Voi la distraete E io Giulia e Vittorio Prendiamo i dolci Andate Password Tieni A che vi serve sto telefono? Basta La luce Ma che vuole luce? Io c'ho un po' Vitto Sei l'unico che non c'è alzato Ti vuoi muovere? Sono stanco Sì Arrivo Arrivo Attente Attente Ragazzi Non mancano il pacco di pop it Che c'è il pop it? Ah perché Giulia Avrò Busso io No no ragazzi Allora Io Giulia e Vittorio ci mettiamo qui E invece Noemi e Aurora La tirate in salone Non c'è? Ok chiudiamo un po' la porta Vieni Vieni Attenzione Guarda Oddio Correte veloci eh ragazze C'è niente? Non risponde Non risponde Ma mo la faccio rispondere io C'è nessuno C'è nessuno? Oh mio dio Scusaci Scusaci Noi due vorremmo essere due amiche Noi due vorremmo essere due amiche Vi sa Via 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 Ma che è davvero avvicinati a me Aurora Via 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 Partenti Aurora Vittorio Dobbiamo andare a prendere i dolci I dolci I dolci Vittorio Ci sono i dolci I dolci Eccoli Eccoli Prendili Abbiamo presi i dolci Portiamoli No No Vittorio No Vittorio Ho trovato i dolcetti Ho trovato i dolci Eccoli Abbiamo trovato i dolcetti Strega Anche noi Hai perso i tuoi poteri Adesso tornatele da noi tre Sei andata Cacciatela Tor Tor Cacciatela Vai via Cacciatela Vai via Cacciatela Vai via Cacciatela Vai via Vai via Via Ce l'abbiamo fatta Vittorio 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 Vittorio